Perché contestate la norma che sospende i processi e cosa farete domani in aula al Senato? Voteremo contro perché non si è avuto coraggio, coraggio di dire la verità agli italiani, di dire che si voleva sospendere i procedimenti penali per quanto riguarda le alte cariche dello Stato. Si parla di tolleranza zero, ma adesso si vogliono sospendere indiscriminatamente tutti i processi, non ci siamo. Ma in Parlamento ci sono due opposizioni, una che cerca il dialogo e l'altra che vuole andare in piazza? Io sono in un'opposizione seria, un'opposizione che dice sì al governo quando fa qualcosa di buono e no quando commette quelli che noi riteniamo degli sbagli. In piazza non ci sono andato con Berlusconi, francamente non ho alcuna intenzione di andarci ad esso. Qualche giorno fa lei ha parlato con Berlusconi dai popolari europei, è l'inizio del disgelo? Ma partecipiamo alla stessa famiglia politica, è chiaro che c'è un rapporto politico, ma ci sono anche tante diversità che sono maturate in questi anni e che permangono ancora. Noi aspettiamo il governo alla prova dei fatti, lo giudicheremo senza inimicizie ma con molta serietà.